Poi, al mattino presto di un certo giorno di Natale, dopo la festa del Spaventiamo la Dragonessa, accadde qualcosa di strabiliante, qualcosa di tanto straordinario da cambiare la sorte del villaggio, di tutti noi, per sempre. Si dice che tutto sia accaduto nell'anno 1314. Mimi Arquin era l'unica figlia di una famiglia di contadini che viveva in una casa sotto la piccola cappella di San Bastian. Quella mattina di Natale, Mimi attraversò il cortile per andare a prendere dei ceppi nella legnaia, come faceva sempre. Quando aprì la porta, era ancora mezza addormentata. Così le ci volle un po' prima che i suoi occhi si abituassero all'oscurità della legnaia dopo la forte luce della neve. In un primo momento non riuscì a credere a quello che le sembrava di vedere. Pur sfregandosi gli occhi e battendoli più volte, non riusciva a mandar via quell'immagine. Mimi pensò che potesse trattarsi di qualche visione rimasta dopo un sogno ormai quasi dimenticato, ma il tempo passava e quell'immagine era sempre lì. Non potevano esserci dubbi. I suoi occhi non le stavano giocando, un brutto scherzo. Era proprio lì, accoccolato sulla catasta di ceppi, un piccolo drago. Era completamente verde, dalla testa alla coda. Aveva gli occhi chiusi e russava dolcemente. Uno strano suono carezzevole, come se si stesse canticchiando una ninna nanna. Piccoli sbuffi di fumo salivano nell'aria seguendo il russare musicale del cucciolo di drago. Era una bella melodia, una semplice melodia. Così Mimi si accorse subito di poterla canticchiare insieme a lui in perfetta armonia. Mentre canticchiava si sentì sopraffatta dalla tenerezza verso il draghetto, così sicura che non le avrebbe fatto alcun male, che allungò la mano e gli toccò il collo con la punta delle dita. Sentendosi toccare, il piccolo drago aprì gli occhi, che erano verdi come tutto il resto, e la fissò, non spaventato, soltanto sorpreso. «Mi occuperò di te, te lo prometto», sussurrò Mimi. Fu allora che improvvisamente dall'altra parte del cortile arrivò un urlo assordante. Era suo padre. «Dov'è la legna per il fuoco, Mimi?» gridò arrabbiato. «La stufa si sta spegnendo! Devo venire a prenderla io?» «Arrivo, papà!» rispose Mimi. Sapeva bene che cosa avrebbe fatto il papà se avesse scoperto che c'era un piccolo drago nella legnaia. «A morte la dragonessa della montagna! A morte la dragonessa della montagna!» Del resto, tutti gli abitanti del villaggio, e tra loro suo papà, non avevano gridato proprio queste parole soltanto il giorno prima. Doveva sbrigarsi. Con sua grande sorpresa, quando si girò, il piccolo drago era scomparso. Forse, dopo tutto, Mimi l'aveva solo immaginato. Ma alcuni attimi dopo, sentì di nuovo sopra di sé quel suo canticchiare a bassa voce. Eccolo là, appollaiato su una trave, con le ali distese spaventato, con gli occhi spalancati e il respiro affannoso. Capì subito quanto fosse spaventato. «Va tutto bene!» disse Mimi. «Vieni giù, non ti farò del male. Non permetterò a nessuno di farti del male». Allungò un braccio. «Vieni, piccolo draghetto!» Mimi sapeva che sarebbe sceso quando si fosse sentito pronto. E fu così. Si librò sulle ali tese e si posò sul polso. Anche se i suoi artigli erano lunghi e aguzzi, non le fece male. Lui se ne stava lì e intanto Mimi gli cantava dolcemente il suo canto di Natale preferito. «Suon di campania Natale, dondola, dondola e va». Quando si mise a canticchiare anche lui, sembrò che stesse seguendo la melodia della canzone di Mimi era il suo modo di parlarle, per dirle che aveva fiducia in lei. La musica era il linguaggio dei draghi. «Penso che nessuno sappia che ai draghi piace la musica», disse Mimi. «La tua mamma canta per te come fa la mia mamma con me. E la tua mamma è lassù nel castello, terribilmente in ansia per te, è vero? E tu te ne sei andato e ti sei perso, giusto?» «La colazione, Mimi!» La voce della mamma arrivò dall'altra parte del giardino. «Sbrigati o faremo tardi per la messa!» «E porta quella legna!» gridò il papà. «Devo andare», disse al piccolo drago, strofinandogli il collo con il dorso di un dito. «Starai morendo di fame, povero piccolo. Ti porto qualcosa per colazione, ti va? I draghi mangiano le torte al miele!» Scommetto di sì, «te ne porto un po'. E dopo sarà bene che ritorni a casa tua prima che la mamma venga a cercarti. Lei è la dragonessa della montagna, vero? E chissà come si arrabbia se scopre dove sei. Penserà che ti abbiamo rapito o qualcosa del genere. Andrà su tutte le furie e se la dragonessa si arrabbia, se inizia a urlare e a ruggire, beh, può succedere qualsiasi cosa.» Mimi lo posò di nuovo sulla catassa di legna e raccolse rapidamente alcuni ceppi. «Torno presto con la tua colazione», disse al piccolo drago. E scappò via con la legna, lasciandolo nel buio della legnaia. Come sempre, per colazione c'erano torta al miele e latte caldo. Mimi beve il latte, ma non mangiò la torta al miele. Aveva in mente un suo piano. Avrebbe voluto tanto raccontare alla mamma del piccolo drago nella legnaia, ma il papà stava sempre in cucina con loro. E papà non era solo un contadino, era anche un cacciatore, e per di più molto bravo. Sulla sedia c'era una pelle d'orso a farglielo ricordare, oltre alle cornappese qua e là alle pareti. «Sei molto silenziosa stamattina, Mimi», disse la mamma. «È il giorno di Natale, dovresti essere felice. E poi non hai nemmeno toccato la torta al miele. Stai bene, cara?» «Sto bene, mamma», rispose Mimi, «solo che non ho voglia di mangiare tutto qua». «Non è stata la migliore di tutte ieri?», disse il papà addentrando la sua fetta di torta al miele. «Non è stata la miglior festa mai fatta? Abbiamo mostrato chi siamo, quella vecchia dragonessa malvagia, vero Mimi? Dopo quello che abbiamo fatto si nasconderà nel suo castello per tutto l'anno. Niente boschi incendiati quest'anno, niente valanghe». «Vedremo». La mamma non sembrava tanto sicura. «Ogni vigilia di Natale andiamo a suonare i tamburi su per la montagna, per spaventare la dragonessa. Ma ogni anno abbiamo ugualmente incendi, no? O una valanga? Oppure c'è qualcuno che va in montagna e non ritorna più, vero?» «Se volete sapere come la penso, tutto quel suonare di tamburi può far star meglio noi. Ma non mi sembra che serva molto». In quel momento le campane della chiesa incominciarono a suonare. La mamma si alzò in fretta e sparecchiò la tavola. Il papà si stava già mettendo la giacca. Così nessuno dei due si accorse che Mimi si infilò velocemente in tasca la sua fetta di torta al miele. Poi, prima che potessero fermarla, era già fuori. «Ci vediamo in chiesa?» gridò. «Prima devo fare una cosa. Ciao! Dove stai andando, Mimi?» La richiamò la mamma. Ma lei se n'era già andata. «Mentre attraversava di corso al cortile, vide gli abitanti del villaggio andare verso la chiesa, camminando faticosamente nella neve, con il fiato che si condensava nell'aria come fumo, simile a quello del piccolo drago», pensò Mimi. Giunta vicino alla legnaia, incominciò a canticchiare. «Suon di campane a Natale, dondola, dondola e va». Per far sapere al piccolo drago che era lei che stava arrivando, così non si sarebbe spaventato.